Il vostro passato vi incoraggia a guardare al futuro con coraggio e determinazione, annunciando l'amore di Dio, soprattutto nelle periferie e tra gli ultimi. È l'esortazione che Papa Francesco ha rivolto ai Vescovi del Giappone, giunti in Vaticano in occasione della loro visita ad limina postolorum. Nel discorso consegnato ai presuli, il Pontefice ricorda il passato spesso doloroso della Chiesa nel paese dell'Estremo Oriente, i cristiani nascosti, così come pure l'intensa opera missionaria portata avanti anzitutto da San Francesco Saverio, e invita tutti a sostenere oggi la Chiesa nella sua missione di annuncio. Esprimendo soddisfazione per gli sforzi compiuti in materia di istruzione, sanità e sostegno agli anziani, oltre alle opere di solidarietà dopo la tragedia dello tsunami, Papa Bergoglio plaude a tutte le iniziative promosse in favore della pace.